Questa mattina l'onorevole Zan Rovigo per il convegno organizzato da Pareto Democratico sulla guerra in Ucraina. Quale testimonianza si sente di portare come deputato e come dirigente nazionale da Pareto Democratico? Intanto l'appello che è stato fatto anche dal Presidente Draghi e dal Parlamento affinché cessino i bombardamenti e le ostilità di guerra di Putin, anche se da quello che capiamo e dall'escalation che c'è stato anche su Kiev questa notte, da parte di Putin non c'è nessuna voglia e nessuna intenzione di un cessato a fuoco. Dunque ecco perché la comunità internazionale deve essere assolutamente mobilitata e fare di tutto perché questa sciagura e questa guerra voluta da Putin, questa folle guerra che ha aggredito l'Ucraina e che sta mietendo un sacco di vittime, un sacco di bambini e tantissimi profughi, due milioni di persone sono uscite dall'Ucraina e stanno cercando ospitalità negli altri paesi europei. Ecco questo deve finire perché è una follia che non possiamo assolutamente tollerare. Grazie. Grazie a voi.